Fazio, Casa Vinicola, qui siamo con Lilli Fazio, una regione, la Sicilia, che esprime sicuramente molta territorialità. Assolutamente, noi siamo forti e siamo orgogliosi del nostro territorio, partiamo dal presupposto che la promozione di un prodotto non possa che passare attraverso la valorizzazione del territorio di cui è espressione e pertanto riteniamo che il vino debba camminare di pari passo con quello che c'è intorno. Per noi il vigneto fa parte del paesaggio, è tutt'uno con il Monte Erice, è tutt'uno con il Tempio di Segesta e questo è diventato il nostro punto di forza. Peraltro crediamo molto nei vitigni autoctoni per cui come azienda ci siamo fatti promotori della valorizzazione dei vitigni autoctoni e anche del riconoscimento di una denominazione di origine controllata che prende il nome da Erice e questo è diventato realmente la nostra bandiera, il nostro cavallo di battaglia. Assaggiando i vostri vini si sentono sempre anche delle note molto particolari, anche un salmastro, comunque davvero delle note degustative interessanti. In Sicilia mi piace sempre ripetere una frase, ovvero che la Sicilia non è una ma sono tante. Basta spostarsi territorialmente per trovare delle caratteristiche organolettiche nei prodotti assolutamente differenti. Tutto ciò nasce dal suolo, nasce dal clima, nasce dall'esposizione. I nostri vigneti sono tutti vigneti collinari, partono da 350 metri sul livello del mare fino ad arrivare a 800-900 metri. Non siamo distanti dal mare ma non siamo neanche vicinissimi, tuttavia le caratteristiche morfologiche del terreno hanno questa spiccata nota calcarea e anche di salinità. Infatti è corretto, i nostri vini hanno questa forma di retrogusto salmastro che è dato dalla presenza di sali minerali molto ricchi, molto evidenti. E questo dà ripeto delle note speziate tanto sui vini bianchi che sui vini rossi assolutamente unici. Per questo abbiamo creduto che fosse necessario delimitare il nostro territorio con il riconoscimento di una denominazione di origine dedicata a noi. Qui a Vinitaly stiamo sempre più parlando con donne, incontrando donne nel mondo del vino. Qui abbiamo un esponente direi di rilievo. Insomma di rilievo. Io sono delegata regionale dell'Associazione Nazionale Donne del Vino. La nostra associazione raccoglie in tutta Italia circa 700 socie tra produttrici ma anche enologhe, enotecarie, ristoratrici, anche giornaliste che hanno sposato la causa del vino. La nostra presenza è sempre più massiccia, è sempre più consapevole però ecco proprio ieri ci siamo viste con la nuova Presidente nazionale che è Donatella Cinelli Colombini e abbiamo ribadito un concetto di fondo. Cioè la nostra non vuole essere un'associazione di categoria chiusa agli uomini ma quello che vogliamo assolutamente portare avanti è un discorso di network, di esperienze, di sensibilità femminile che pur non escludendo gli uomini però crea un valore aggiunto nella comunicazione del vino. E poi tra donne o ci sono grandissime sintonie, grandissime simpatie o ci sono grandissimi odi. Nel nostro caso siamo riusciti in associazione a creare ripeto una sinergia forte. In Sicilia abbiamo 20 socie e devo dire lavoriamo bene, esprimiamo parti diverse, caratteristiche anche diverse dal punto di vista territoriale, non esiste, non esistono gerosie, non esiste individualismo, ognuno fa, ognuna di noi fa il suo lavoro però ci ritroviamo piacevolmente insieme a collaborare. Grazie, un saluto a tutte le donne del vino. Grazie a voi.